Le strade di Scampia In collaborazione con le associazioni e le scuole del territorio, giunta la sua trentesima edizione O la borsa o la vita, ovvero sia dove va il mondo Questo è il tema scelto per il 2012 con riferimenti alla crisi economica che sta colpendo il paese Maschere, artisti di strada, totemi di carta pesta, ballerini, semplici cittadini Hanno attraversato il quartiere da Rione Monterosa fino al Campo Rom di Cupaverillo Dove sono state bruciate, come da tradizione, i simboli negativi Speranzonio Speranzonio, io lo dico, voi ripetete, anche gli altri Lassate il Storraù, scendete qua giù Lassate il Storraù, scendete qua giù Alla manifestazione non è voluto mancare il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani Questa è Scampia, un momento di divertimento, di colore, sviluppo sociale Tanta gente per bene in strada a dimostrare che la volontà dei cittadini può cambiare questo territorio Chiediamo alle istituzioni di essere presenti, di migliorare la qualità della vita E di dare la possibilità a tanti affidanti di un territorio per per strada il centro della città metropolitana Siamo stuiosi di questa gente in questo territorio